Salve, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Lex and Love, la parola della settimana. Quella di oggi non è proprio soltanto una parola, ma è un'espressione costituita da due elementi che fa parte del paradigma normativo di questo reato che stiamo imparando a conoscere bene, che è il revenge porn. L'espressione di oggi è sessualmente esplicito. Sessualmente esplicito è il contenuto che il revenger pubblica. È la foto, il video, l'immagine che viene diffusa o semplicemente inviata ad altre persone e nell'ipotesi in cui sia stata inoltrata a sua volta da una precedente ricezione deve aver avuto come scopo quello di arrecare un danno al soggetto effigiato. Ma che caratteristiche deve avere questa immagine per poter essere considerata elemento oggettivo del reato di diffusione illecita? Deve essere sessualmente esplicita. Il legislatore non ha spiegato che cosa andasse a colpire esattamente, non ha fornito una definizione, probabilmente confidando su due elementi. Il primo è l'immediata percepibilità e comprensibilità del concetto, perché sessualmente esplicito non ha bisogno di soverchie spiegazioni. E in seconda battuta perché molto spesso quando la formula normativa è così ampia si riesce a coprire con essa anche tutte quelle manifestazioni ulteriori che nel futuro dovessero svilupparsi anche grazie alla velocissima espansione dei mezzi tecnologici e telematici. Questo infatti è un reato che pur annoverando il mezzo informatico come circostanza aggravante, quindi non essere quella la regola ma qualche cosa di più grave, in realtà come sappiamo viene commesso per lo più attraverso i social. Sessualmente esplicito quindi è ciò che attiene all'area del pudore, dell'osceno a quella antica, perché è davvero una norma del 1930, fattispecie degli atti osceni, articoli 527, o comunque di ciò che andava a punire il comune senso del pudore. E all'epoca si erano sviluppate delle teorie in dottrina, poi mutuate dalla giurisprudenza, che sono molto utili anche adesso. Una delle caratteristiche del mondo giuridico italiano è quello di evolversi, senza buttare via però l'esperienza positiva fatta in passato. Sul tema del pudore, quindi, si era distinto tra il pudore moda, il pudore medio e il pudore mediano, a seconda di ciò che avesse attinenza più con il momento precipuo, con l'attimo che si stava vivendo, o che avesse una accezione, diciamo, più comunamente accettata, perché non si occupava di estremi, ma cercava appunto un punto medio tra le pruderie di un ragazzino e quell'atteggiamento invece più moderato, più composto e privo di particolare slancio, tipico invece dell'età adulta.